buongiorno voglio presentare in questa sede il progetto nagual progetto nagual già di per sé sembra un termine abbastanza strano che cos'è questo progetto nagual un progetto di intervento un progetto di intervento in una in una comunità di persone in una città in un paese in un territorio il cui intento è quello di favorire l'evoluzione su quella che si chiama i quattro quadranti evoluzione personale l'evoluzione relazionale con l'altro nella famiglia con nella coppia l'evoluzione culturale quindi nel proprio modo di pensarsi insieme di pensare il proprio mondo e propri punti di riferimento culturali partecipare all'evoluzione culturale in corso in questo mondo post moderno e iper complesso e sociale quindi impatto impatto nel mondo impatto nel mondo economico impatto nel mondo lavorativo impatto nella nostra società come persone come gruppi identitari come aziende in grado di portare avanti la loro specificità le loro qualità le loro eccellenze vorrei partire da alcune cose che mancano nella nostra società perché abbiamo chiamato il progetto nagual come leggete nagual è un termine meso americano che vuole indicare l'elemento sacro quella sacralità che c'è in ogni cosa che non è solo nell'alto dei cieli ma in ogni comportamento avere uno sguardo sacro è uno dei punti fondamentali per sentirsi parte di qualche cosa parte del proprio territorio parte dell'ambiente col quale si interagisce parte del proprio gruppo sociale familiare parte dell'altra persona parte della propria identità culturale la visione proposta è la cosiddetta visione integrale cosa vuol dire visione integrale una visione integrale intanto viene da lontano perché una visione integrale è una visione che come si dice trascende e include raccoglie l'eredità della dimensione razionale nella quale siamo da qualche secolo e partecipa a questa evoluzione cambiamento di paradigma che è in corso anche qui ormai da diversi decenni verso appunto una visione integrale sovra razionale in grado di raccogliere tutti i doni della dimensione razionale ma di offrire uno sguardo ulteriore che sia in linea con che cosa con il mondo postmoderno e iper complesso che stiamo affrontando la chiave è iper complessità anzi ci sono tre parole chiave visione integrale iper complessità e soft skills iper complessità queste sono le sfide che in questo mondo globalizzato ogni persona ogni territorio si trova ad affrontare nessuno può evitare di essere immerso contaminato e influenzato dai problemi di inquinamento dalle risorse mancanze di risorse ivriche dalla deforestazione delle migrazioni dalla globalizzazione della mancanza di tempo dei genitori con i figli dei padri con le madri delle mogli con i mariti degli amici la velocità con la quale le cose stanno andando la perdita di contatto con se stessi la digitalizzazione riscaldamento globale l'estinzione delle specie la finanza mondiale che sembra determinare anche gli sforzi di un'intera economia basta un downgrade di standard pur perché gli sforzi di un'intera nazione per un anno vengono vanificati l'inflazione informazionale l'importanza personale l'ipertrofia relazionale la competizione tutti questi aspetti devono essere visti con uno sguardo diverso cosiddetto integrale la proposta è di uno sguardo integrale che sappia affrontare quelli che sono gli obiettivi delle nazioni unite per uno sviluppo sostenibile e voi direte ma com'è cosa c'entra cosa c'entra una visione integrale con favorire l'identità del nostro territorio città sostenibili consumi responsabili oppure proteggere il clima la vita nel mare e nella terra eliminare la povertà o sradicare la fame nel mondo è certo che non risolviamo tutto con la beccata magica ma ci sono ricerche da forbes al world economic forum all ibm a mckinsey company che ci dicono chiaramente come ci sia un gap tra il mondo del lavoro tra quello che la nostra società in grado di fare e quello che ha il bisogno del mondo del lavoro e nel mondo della cultura c'è un gap tra i sistemi di istruzione e mercato del lavoro e il cambiamento economico e tecnologico che sta avvenendo pensate a quando sono nati i sistemi l'educazione e quanto veloce sta andando forbes non c'è un campo più inefficiente di quadro educazione per rispondere alle sfide globali e lavorative ed economiche e sociali di questa la visione integrale propone esattamente un cambio nel sistema educativo forse qualcuno di voi sa come sia nato il rinascimento e di conseguenza il pensiero scientifico oltre al pensiero alla fioritura delle arti è nato grazie al cambiamento del sistema educativo a firenze da un sistema educativo fondato sui dogmi della chiesa a un sistema educativo fondato sui classici filosofi greci questo cambiamento educativo questa apertura mentale ha creato il fiorire lo sbocciare di arti economia scienza e progresso l'uscita dal medioevo ora la proposta è una visione integrale vuole soprattutto offrire soft skills la capacità di collaborare di comunicare di essere creativi e flessibili la capacità di pensare in un'ottica sistemica di cogliere le strutture che stanno dietro la mente razionale è in grado di conoscere per separare per differenze la mente sovra razionale integrale è a grado di cogliere le strutture che connettono le differenze è in grado di cogliere il pattern sottostanti e che stanno oltre quindi e di agire con sistemi infinitamente più efficaci sviluppare il pensiero critico e ancora di più pensiero integrale sviluppare uno sguardo globalmente orientato ma anche localmente orientato la via in dentro la via in fuori la via in alto la via in basso lo il concentrare e l'espandere la capacità di fare del due l'uno la capacità di cogliere il grande nel piccolo il piccolo nel grande e così via quindi le proposte sono laboratori che partono dai bambini ovviamente da dove possiamo incominciare sono dei bambini partono dalla scuola materna per passare agli adolescenti alle crisi dei nostri adolescenti per arrivare alle minoranze per arrivare a favorire l'integrazione di genere l'integrazione di classe sociale integrazione di differenze culturali la creatività l'arte il teatro la scrittura fino a l'accompagnare fino a una cultura della morte diversa e la nostra vita la morte nella nostra società la morte completamente trascurata completamente ignorata rimossa una cultura della morte che sappia con riconoscere che la vita è nascita esistenza e morte e poi l'arte dicevamo teatro fino a i centri di ascolto per i più disagiati centri di ascolto delle emergenze spirituali quante persone vengono diagnosticati come psicotiche come folli quando stanno attraversando invece un passaggio delicato della loro vita e si ame quinto ha inserito i problemi spirituali religiosi tra le diagnosi tra le problematiche psichiatriche la capacità di riconoscere e di accogliere in società di una cultura che sappia integrare e giocare con la follia riconoscendo che non tutte le follie sono uguali tutti i disagi sono uguali quindi emergenze spirituali pari opportunità pari opportunità che non vuol dire solo tra maschile e femminile ma tra le varie minoranze sessuali tra i vari orientamenti sessuali oppure se masteri la capacità di sviluppare internamente queste soft skills immaginatevi un fiore che sboccia la capacità di nutrirsi per sbocciare e una cultura è fatta di fiori che sbocciano un campo fiorito è fatto di fiori che sbocciano una cultura è fatta l'identità di un territorio è fatto da persone che sono integrate connesse con la loro identità individuate e così via fino ad arrivare al lavoro con le aziende una serie svariata di approcci in azienda l'arte dell'eccellenza il coraggio di imperfezioni e di seguito per creare società ad alta sinergia l'agilità sistemica punto cruciale per aziende che siano in grado di essere competitive non solo dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista dell'altra sinergia e della capacità di padroneggiare il potenziale umano fino alla formazione formazione appunto in soft skills che possono andare da percorsi media percorsi più ampi che creano una cultura della capacità di sviluppare le qualità interiori in ogni essere umano le potenzialità l'essere umano è un complessa del system ci dice la scienza della complessità in grado di auto organizzarsi costantemente rinnovando le proprie componenti e soprattutto auto trascendendosi nel nuovo nel creativo attraverso attraverso creatività attraverso apprendimento ed evoluzione evolvere verso una dimensione più complessa cioè più profonda non risolveremo la vita delle persone o l'identità di un territorio ma senz'altro con questo progetto potremo portare un enorme beneficio e un enorme spunto per una trasformazione evolutiva di una comunità di una collettività e della nostra società. Grazie